Ciao ragazzi, bentornati qui sul canale. Oggi parliamo di stipendi, parliamo di com'è la situazione stipendi in Italia per quanto riguarda il nostro settore, il settore dei programmatori, per cercare di dare un'idea sia a chi si avvicina al settore da fuori, quindi non ha alcune esperienze e vuole sapere più o meno qual è questa situazione, visto che tutti parlano del lavoro del programmatore, sia per gli junior che magari sono alla prima esperienza e quindi vogliono capire come approcciarsi davanti a determinate offerte, e sia per chi è già nel mondo del lavoro e della programmazione ma magari ha uno stipendio che non è in linea con le proprie competenze, quindi magari vuole un attimo rivedere le cose, cerchiamo di vedere insieme qual è la situazione in Italia. Per farlo useremo uno dei miei bellissimi schemi, una tabella in cui abbiamo le competenze e il RAL, la RAL, non lo so, comunque il Lordo Anno, e dall'altra parte il Netto per dare un'idea del Netto e quindi base alle competenze quali sono questi livelli di stipendi. Prima di tutto, da dove ho preso questi dati? Dunque, ho cercato un po' online e quindi vi metto ovviamente le fonti che ho trovato nei link in descrizione, poi ovviamente c'è quella che è la mia esperienza diretta, non si può generalizzare tanto e quindi utilizzeremo dei range di stipendi, però penso che a un certo punto ci si possa fare un'idea di qual è questo livello di stipendi. Ora, lo stipendio lo divideremo per fasce di competenze, ma non basta solo parlare di competenze, ma come vedremo dipende anche da altre cose, quindi vediamo da cos'altro dipende. Il primo punto che può far cambiare il proprio livello di retribuzione è la propria regione di appartenenza o regione in cui si sta cercando lavoro. Questo perché capite benissimo che in alcune regioni il livello di retribuzione è più alto, banalmente pensiamo alla Lombardia e a Milano che è sempre un po' il punto di riferimento in questi casi, mentre ci sono altre regioni o anche altre aree, pensiamo al sud Italia in cui mediamente il livello di stipendi, senza voler generalizzare, comunque mediamente è più basso, quindi capite che cercare di dare uno stipendio medio in Italia deve tener conto di queste cose. Secondo punto che può far cambiare il proprio livello retributivo sicuramente è la tecnologia o, volendo semplificare, il linguaggio di programmazione in cui ci andiamo a piazzare. Questo perché alcuni linguaggi di programmazione sono più richiesti sul mercato e quindi possono avere una retribuzione più alta, però in realtà può anche essere che ci sia molta offerta di un determinato tipo di programmatore, quindi i livelli di retribuzione si abbassino, oppure può esserci un linguaggio che magari è molto vecchio e poco richiesto, ma ci sono poche persone, pochi professionisti che hanno competenze in quel linguaggio e quindi possono banalmente chiedere più soldi, quindi semplicemente come una situazione di mercato classica tra domanda e offerta, questo anche fa fluttuare i prezzi in quel determinato tipo di settore, quindi area tecnologica e linguaggio di programmazione possono essere una discriminante. L'ultimo fattore che va un po' a cambiare il livello retributivo anche a parità di competenza è la propria capacità di contrattazione. Capito infatti che a parità di competenza ci può essere sempre all'interno di un'azienda un collega che ha un livello di retribuzione più alto perché è stato più bravo a contrattare. Nelle fasce che vedremo adesso di stipendio si potranno trovare degli junior che magari riescono ad avere uno stipendio più alto, magari simile a quello di uno sviluppatore che ha già dell'esperienza, così come ci possono essere sviluppatori senior che non riescono a dare il giusto valore alle proprie competenze e si ritrovano con una retribuzione più bassa, quindi è importante saper contrattare. Prima di passare alle cifre vi ricordo se questo video vi sta piacendo, se lo trovate utile mettete un mi piace e iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Vi ricordo che sto preparando un progetto con dei miei corsi per diventare programmatore ma soprattutto per diventare programmatore nomade. Con anticipazione i corsi saranno live perché voglio in tutti i modi poter essere io fisicamente ad aiutare le persone ad imparare e quindi voglio creare delle varie e proprie classi e non saranno quindi dei semplici video corsi in cui potete seguire voi e basta, ma potete seguire insieme a me e quindi interagire, fare domande. Ho un sacco di idee, sono carico a mille, quindi se vi interessa il link è in descrizione. Passiamo finalmente alla nostra tabella. Dunque come vedete in alto abbiamo due colonne, la colonna RAL e la colonna netto del mese, in cui RAL sta per reddito annuo lordo e rappresenta la cifra lorda che vi viene corrisposta dall'azienda, non versata perché a questa cifra vanno poi tolte tutte le varie imposte e i contributi. È importante ragionare in RAL perché così siete in grado di confrontare anche offerte tra tipi di contratti diversi, magari contratti che prevedono 13 mensilità invece che 14. Capite che se una cifra vi viene data 13 volte è diverso che la stessa cifra data 14 volte, quindi ragionare in RAL è un modo un po' più universale per confrontare offerte diverse. Mettiamo comunque a destra nella colonna netto mese un'idea di quale può essere il netto che vi viene fisicamente versato. Per comodità io ragiono con il contratto del commercio che quindi prevede 14 mensilità che è un po' per esperienza quello che più comunemente vedo o visto corrisposto nella carriera di programmatore. Sulle righe invece abbiamo diversi livelli di competenze che ho suddiviso così che è più o meno diciamo il modo in cui si suddivide solitamente la propria carriera all'interno del mondo del lavoro della programmazione da dipendente. Partiamo quindi da uno stage, da uno stagista. Dunque non parliamo di RAL in questo caso perché solitamente abbiamo un periodo ridotto, è un periodo che anzi va al di sotto dell'anno, può stare a sei mesi credo massimo. In questo caso la retribuzione netta che è una specie di riborso spese dipende un po' dalla regione, ci ho capito bene in base alla normativa, diciamo che mediamente parliamo di una retribuzione che sta sui 600 euro e può arrivare ho visto anche a 900 euro, però di solito è 600 la cifra che viene un pochettino più presa a riferimento in questo caso. Personalmente credo che ci stia un'offerta di stagio di tirocinio nel momento in cui si è al termine di un processo di formazione che prevede un tirocinio, oppure se sia proprio un processo di formazione che prevede una parte di formazione fatta sul campo, ci sta in una primissima, diciamo, fase. Ma se invece avete una preparazione fatta e finita e quindi siete pronti ad entrare alla prima vostra esperienza o comunque avete pochissima esperienza, vediamo come viene inquadrato un programmatore junior. In questo caso bisogna appunto fare una media tra quello che è solitamente un inquadramento di apprendistato, perché bene o male se sei junior dovresti entrare nell'apprendistato, o comunque quello che è uno stipendio new entry nel settore. Facendo una media tra tutto quello che è l'esperienza e quello che un po' ho trovato in giro, direi che una RAL di uno sviluppatore junior è in un range che va dai 19 ai 23 mila euro. Questo dipende molto soprattutto dall'area geografica perché in alcune aree è più facile entrare già con un livello più alto e parliamo di un netto al mese che va dai 1200 ai 1350. Qua ho usato dei siti molto semplici, magari ve lo metto in descrizione, con cui fare una conversione da lordo a netto, appunto sto utilizzando un contratto con 14 mensilità, dipende molto dalle agevolazioni fiscali, bonus. Diciamo che dovrebbe entrarvi al mese una cifra attorno qua, ovviamente non è precisissima. Questo non vuol dire che non potete ottenere di più qua. Io penso soprattutto da junior è più difficile, è la prima offerta, quindi diciamo che è più difficile contrattare, ma nulla vieta che riusciate in una bella realtà, con magari voglia di investire su di voi e che magari si trovi in un'area geografica anche più ricca, riusciate a avere di più. Passiamo alla situazione di mezzo, al mid developer. In questo caso, diciamo, ragioniamo un po' intorno a quello che è la media. Quello che mi è venuto fuori come dato medio è che uno stipendio medio di uno sviluppatore dovrebbe rientrare intorno ai 30k, ai 30.000 euro lordi anni. Mettiamo un range un po' più ampio e quindi dai 25.000 euro ai 32.000 euro possiamo dire che sia un range che comprende il valore medio. Quindi se vogliamo mettere questa media a 30.000, diciamo che stiamo qua. Abbiamo magari fatto uno scatto con un aumento, un cambio di lavoro rispetto a una posizione junior, però ovviamente a un certo punto si arriva a un limite che non deve essere per forza in 32k, ma è per dire che se mi trovo poco sopra la media, ci sta che a un certo punto quando le mie competenze mi fanno avere quell'autonomia, io voglio andare oltre. A livello di netto parliamo di uno stipendio che va sempre circa tra i 1.400 e i 1.650. Anche qua dipende come sempre da fattori di fiscalità, diciamo sto sempre prendendo in considerazione 14 mensilità. Quindi in Italia in questo momento avendo una media di 30.000 euro lordi anni credo che chi ha un'esperienza media, non è proprio la prima esperienza, ma non ha ancora fatto chissà che esperienze, si ritrovi più o meno in questa situazione, che in realtà penso sia poi una situazione in cui ci si ritrova molto se non si ambisce a diventare più esperti, quindi si è diciamo in una situazione tranquilla di lavoro, ma non si vuole troppo investire in questo per arrivare a un'esperienza più alta. Esperienza più alta che porta al cosiddetto senior, al cosiddetto nostro super sviluppatore, che in questo caso poniamo a un livello che, questo anche un po' più per esperienza in quello che è la mia rete, in questo caso la situazione di un senior diciamo che dovrebbe partire a 35.000, ma una media sempre qua prendendo un po' dati su internet sembra essere indicata sui 42.000 euro, ma ovviamente in questo caso qua ci dobbiamo mettere un bel infinito, infiniti K, perché qui si può ambire non all'infinito, ci sono dei limiti strutturali legati poi alla situazione del paese, quindi banalmente il livello stipendio a un certo punto si ferma, ma effettivamente soprattutto in belle realtà ho avuto dei riscontri, non personali purtroppo in questo caso, poi a me sono freelance quindi tutto diverso, però ho avuto dei riscontri di dipendenti senior, molto in gamba, magari con ruoli molto molto importanti, con delle RAL molto molto più alte. Dove sta il limite? Il limite probabilmente sta poi al mercato, a un certo punto non diventa più conveniente in un'azienda italiana avere una persona pagata troppo, e lì ci si può spostare all'estero, dove effettivamente si può ambire ancora ancora di più. Qua diciamo siamo sui 1.800, 2.000, sempre infinito, e in questo caso parliamo di comunque all'aumentare poi dell'ordo si entra in fasce di tassazione molto molto più impegnative, ahimè ad oggi la tassazione sul dipendente è molto molto alta, e quindi all'aumentare del RAL si entra in delle fasce di retribuzione più alte, e quindi non c'è un aumento direttamente proporzionale del netto. Onestamente questi dati li ho presi un po' così, credo che si possa ambire mediamente anche a degli stipendi più alti da senior, anche lì quando si è senior questo è tutto un altro discorso in cui magari parleremo, anzi senza magari ci dedicherò un altro video in cui parleremo di come non sia nulla sia così scolpito sulla pietra, però sicuramente si può ambire a degli ottimi stipendi in questo settore, in questo momento, sia in realtà sia andando verticalmente magari su un linguaggio, su un certo stack tecnologico, ma anche riuscendo ad avere con l'esperienza negli anni una visione più ampia. Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra opinione, se pensate che queste fasce non abbiano alcun senso, il che è possibile, contando che ho trovato poco senso in alcuni siti in cui davano queste informazioni, ho cercato di livellare e metterci del mio, ma magari comunque non basta perché sono mio per di altre informazioni, quindi fatemi sapere nei commenti. Cosa ne pensate? Fatemi sapere qual è la vostra visione rispetto a questo argomento, che credo sia molto importante affrontare perché il lavoro del programmatore viene visto con tantissimo interesse da tante persone, perché giustamente c'è richiesta, si vede c'è molto anche marketing in questo momento, ma al di là di tutte le difficoltà poi reali del lavoro, effettivamente è un lavoro che può essere per molte persone molto soddisfacente dal punto di vista retributivo. Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre vi ringrazio per averlo visto, ci vediamo prossimamente con altri video, parleremo appunto magari meglio di questa suddivisione per ruoli, che molto spesso viene vista come una cosa molto fisica quasi, quindi ah tu sei senior o no? È un casino in realtà, quindi magari ne parleremo con più calma, ci vediamo come detto al prossimo video, alla prossima!